Buongiorno, mi chiamo Tiziana Tolazzi e ho 66 anni quasi a novembre. Sono nata a Torino ma abito a Parma e di problemi ne ho avuti abbastanza. Poi la cosa che mi ha spinta a venire qui è che avevo in bocca dei ponti vecchissimi da 20-30 anni e quindi era ora di farli vedere. In Italia mi hanno fatto dei preventivi spropositati per cui girando un po' sul web ho trovato questo istituto e mi ci sono affidata. L'ho scoperta intanto tramite spot radiofonici, poi dove abitiamo ci sono parecchi cartelloni pubblicitari per la strada e poi su web perché ovviamente un minimo di competition l'abbiamo fatta e di conseguenza fra tutte le varie proposte ricevute la più seria e che ci dava un'opportunità giusta è stata quella dell'istituto di Palmas. Ho risolto i problemi che avevo che quindi c'erano praticamente i denti oramai si erano deteriorati, consumati, la masticazione non era più quella corretta, avevo problemi di chiusura alle mandibole e quindi l'osso che comunque in un qualche modo incominciava ad avere dei problemi, non per osteoporosi però proprio per la masticazione non corretta. Devo dire che mi è piaciuto tutto perché siete organizzati in una maniera eccellente e per cui tutti quanti sempre sorridenti, disponibili e cortesi, per cui l'esperienza a partire dalla reception, la logistica, i medici, gli assistenti, tutti quanti veramente eccezionali.